Ciao, andiamo a vedere un esercizio dal metodo ebook studi pratici per bassisti la scala pentatonica. Andiamo a vedere la seconda parte che parla di esercizi melodici per unire più box. Ad esempio, possiamo partire da qua, ad esempio prendiamo questo esercizio 3. Praticamente qua siamo ancora su un box singolo, quindi facciamo degli esercizi sull'accelerazione di un box singolo e unire un box all'altro. Nell'esercizio 3, gli esempi sono tutti qua sul box di la minore pentatonico. Chiaramente poi nei video suggerisco l'espansione in tutte le tonalità per imparare proprio tutti i box, ma anche a suonare in tutte le tonalità. Qua siamo in la minore, allora i box prendendo soltanto le due frasi acute, perché in questa fase cerchiamo di velocizzare la parte diciamo più melodica sul basso e quindi andiamo a prendere soltanto le due corde più acute. Siamo in la minore, il primo box va a prendere mi, sol, la, do, poi abbiamo sol, la, do, re, mi, do, re, mi, sol, re, mi, sol, la. Possiamo ancora prendere anche la ripetizione del primo presa qua sopra, mi, sol, la, do. Ok? Nell'esercizio qua 3, tra l'altro c'è sempre il link al video dove spiego tutto, li suoniamo insieme, eccetera. Qua chiaramente c'è soltanto l'esempio sul primo box, gli altri sono da sviluppare con propri esercizi. Allora qua abbiamo questa cosa, l'accelerazione 1 più 2, cioè facciamo il riff in ottavi, 1, 2, e, e poi acceleriamo facendolo due volte con i sedicesimi, in questo modo va a incastrarsi e diventare un quattro quarti. 1, 2, e, 3, 4. Cambiamo box, cambio, 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 Ultimo Chiaramente poi da qua suggerisco anche mille varianti, adesso ho ripetuto due volte poi andavo su, altrimenti si può fare anche quattro volte o una volta e cambiare direttamente se ti senti già più pronto andare su più box. Poi una cosa carina è anche quella, quando arrivi sopra non fermarti ma torni indietro sempre di box in box. L'altra cosa è quella di farlo comunque sempre con delle batterie, nel metodo suggerisco sempre delle batterie, prendo dei link, cioè ti do dei link per andarle poi a prendere. Quindi tu avrai la batteria e fai l'esercizio avendo il ritmo. Due, tre, quattro Cambio subito Chiaramente se è troppo veloce puoi partire lentissimo, puoi andare su. Questa cosa delle accelerazioni io la trovo molto utile e didatticamente veramente ti fa migliorare perché per un attimo ti fa andare oltre la velocità che riesci a tenere normalmente. Quindi noi abbiamo la velocità di crociera che è fatta sugli ottavi e poi per brevi periodi che negli esercizi diventano sempre più lunghi andiamo a fare questa accelerazione in cui andiamo proprio buttando il cuore oltre l'ostacolo cercando di fare questo e cadendo poi giusti sul tempo o almeno cercare qua si studia. Benissimo, il metodo quindi è questo, te lo faccio ancora vedere un attimo, studi pratici per bassisti, la scala pentatonica, questa era la seconda parte, quella in cui noi abbiamo già lavorato nella prima parte su tutti i box completi e andiamo a fare questi esercizi che servono poi per arrivare ad unire i box e quindi fare delle cose che si suonano poi nella realtà perché quasi mai suoneremo solo fissi su un box. Le frasi melodiche spesso si vanno a sviluppare unendo poi più box e questo è lo scopo poi che si prefigge il metodo. Dagli un'occhiata, lo trovi sul mio sito, ci sono anche altri video, ci sono tutte le informazioni, il metodo costa pochissimo, mi sembra una quindicina di euro e un pdf con tutti i link, tutti gli audio e tutti i video. Benissimo, a presto, allora ci vediamo in un altro video, ciao!